...questa suona se è possibile. Nico? Annaggia, mi sei che ho perso ieri. Dove ho messo? Nico? Sì? Cosa deve fare Nico ad Amelia prima di uscire, eh? Eh, bacetto. Ciao. E dopo il bacetto? Eh, dopo il bacetto... ...un goccetto, eh? Ciao. E dopo il goccetto? Ehi, dopo il goccetto è il letto, ma... ...l'abbiamo fatto un sacco di volte ieri sera. Five? Ma che fai? Six? Sei? Ma che scherzi? Venti e quattro. Beh, mo' sei esagerato tu, eh? Che so, la multinazionale del materazzo, io. Nico? Ti dimentichi che sono 15 giorni che sei nella mia pensione senza pagare un dollaro? Amelia, non mi dimentico, ma se tu non mi mangi a lavorare, come faccio a pagare? E se chiamo la polizia? E se chiami la polizia, la svertina e vado io, eh? Vabbè? Sono tua.